Buonasera, vi presento Wikitude Studio per creare realtà aumentata e un'applicazione sul web e prevede che noi scarichiamo le app per iOS oppure per Android sul nostro smartphone per leggere queste immagini aumentate. Può essere utilizzata per creare cartelloni pubblicitari, brochure e molto altro. È costruita su un linguaggio di programmazione HTML, CSS e JavaScript. Ma l'interfaccia grafica che noi andiamo ad utilizzare è molto semplice da usare. Si creano immagini con realtà aumentata che vengono lette dall'applicazione per mobile. Possono essere inserite nell'immagine trigger iniziale, testi, immagini, audio e video e modelli anche 3D. È possibile aggiornare le applicazioni. Quando usare Wikitude Studio? Gli studenti la potrebbero usare nel momento operatorio di un EAS, episodi di apprendimento situati per sviluppare il loro progetto che può consistere in un cartellone aumentato, in un giornalino oppure nella recensione di un libro. Anche il docente può proficuamente fornire degli strumenti aggiuntivi con questa applicazione agli studenti sia per il recupero che per il ripasso e per l'inclusione. Vediamo come funziona Wikitude Studio. Andiamo in Get Started, vi chiederà di loggarvi se non vi siete loggati o di registrarvi se non vi siete ancora registrati. Sono già io loggata e quindi entro subito nell'interfaccia, nella dashboard dei miei progetti. Come vedete sono presenti tre progetti. Vado in Crea Progetto. Mi chiede di uploadare un'immagine oppure un Learning Object. scelgo l'immagine, il nome che do a questa immagine, volte, e creo l'immagine di partenza, trigger di partenza, volte. Vedete che mi ha creato e mi dice di aggiungere realmente l'immagine. La aggiungerò dal mio computer, trascinandola in questa immagine, come vedete. Quindi vado a scegliere e la trascino qui. Faccio invia e mi elabora l'immagine di partenza. La apro in Studio Editor. Ho la possibilità qui di ruotarla, come credo. Va bene. Ora aggiungo gli aumenti, che possono consistere in un'immagine, un video, in un modello 3D, oppure un'etichetta, oppure un bottone. Aggiungo un'etichetta e nel label metto volte. Potrei questa etichetta formattare per il colore del carattere, il colore dello sfondo e il tipo di carattere. Lascio così com'è. Faccio Insert. e come vedete mi ha inserito l'etichetta, che tranquillamente posso spostare seguendo le frecce. La sposto in alto. e poi voglio inserire un video. Vi ricordo che si può uploadare dal proprio computer oppure da un link esterno. vi consiglio di avere un video di riferimento esterno perché l'upload dal proprio pc è di circa 10 megabyte, e quindi deve essere due parole, pochissimo. Con External mi chiede invece di trascinare il path del video che voglio inserire. Quindi l'ho preparato un video di prova. e vado, l'ho uploadato su YouTube e vado in Insert. Mi fa il collegamento e come potete vedere mi ha inserito anche il video che trascino in questa posizione. Ora possiamo andare a vedere l'anteprima. nell'anteprima trovate tutte le istruzioni per vedere l'applicazione e per vedere, leggere l'aumento e quindi la realtà aumentata sulla vostra immagine. Allora, vi dice di scaricare da Google Play oppure da Apple App Store l'applicazione e una volta che l'avete aperta dovrete selezionare la voce dal menu sviluppatore e inserire username e password oppure scannerizzare il QR code con un QR code reader a vostra scelta e lanciare il progetto.